Tifosi, squadra e società insieme, scriviamo la storia. Questo è lo striscione che è campeggiato durante il secondo allenamento della gioiella Prisma Taranto al Palamazzola. Allenamenti aperti al pubblico con una raccomandazione da parte della società, il silenzio per poter osservare da un lato i nuovi atleti e dall'altro poter far allenare con calma la formazione ionica, che ha un sogno nel cuore, quello di poter centrare i playoff scudetto. Va detto che questo non è stato dichiarato come obiettivo dalla società che comunque vuole alzare l'asticella, ma è un sogno che comunque i tifosi hanno nel cuore. Un abbraccio anche avuto fuori dal palazzetto in occasione del saluto nella giornata di lunedì all'interno dei Giardini Virgilio, quando l'amministrazione comunale ha voluto fare il suo in bocca al lupo alla società del presidente Antonio Bongiovanni e della vicepresidente Elisabetta Zelatore. Adesso bisogna giocare, prepararsi al meglio per un campionato che a ottobre asside le difficoltà, ma con un'arma in più, il settimo in campo, il pubblico del Palamazzola.